Nel comune costiero di Giulianova torna la notte dei saldi, il primo evento dell'estate 2019 organizzato dal comitato commercianti e artigiani di Giuliano Malido, con la collaborazione dell'associazione Love Shopping e con il patrocinio del comune. Un appuntamento oramai tradizionale che ogni anno si ripete con crescente successo. L'evento prenderà il via a partire dalle ore 20 con sconti e offerte speciali dei negozi del centro, accompagnati da musica e tanto altro. Sì, un evento importante, molto atteso dai commercianti. Diciamo che è il primo evento che spero avvii una ripresa per Giulianova. Considerando che è praticamente saltata una stagione, perché per via del tempo comunque è saltata la stagione primaverile, confidiamo e speriamo in una forte ripresa per questa stagione estiva. I turisti sono arrivati, sono tanti e speriamo bene. Ci sono diversi eventi, la punta di diamante è Giosquillo, l'icona degli anni 80, ci sono quattro live band che suoneranno per le vie dello shopping, che sono via Nazariosauro, est ed ovest e via Leorsini. Abbiamo pensato insieme alla nuova amministrazione di rilanciare il centro, perché per loro è un punto di riferimento dove vogliono puntare tanto. Li ringraziamo perché hanno puntato grossa parte del loro budget per noi, per far ripartire il commercio, è in questo periodo difficile ed è il primo di diversi eventi che andranno fino al 31 agosto. Settimana prossima in collaborazione con noi il villaggio dei bimbi che si svolgerà in Piazza del Mare, per poi il 19, 20 e 21 il bello della musica, fino ad arrivare al 2 agosto che c'è proprio torna la notte lo shopping, perché questo in collaborazione tra il comitato commercianti ed artigiani Giuliano Valido e l'associazione I Love Shopping, dove ringraziamo appunto Gianni Massi e Fabio Capriotti, Fabio Capriotti soprattutto perché ci ha dato una grossa mano per realizzare tutti gli eventi. Abbiamo creato questa sinergia tra il comitato commercianti ed artigiani e I Love Shopping, per riportare tanta gente a Giulianova e far sì che riparta il commercio. Grazie Grazie